Ciao a tutti. Fan di Maria Corleone. Sono qui per darvi tutte le ultime notizie sulla serie televisiva che avete seguito con tanto entusiasmo. L'ultima puntata di Maria Corleone è andata in onda mercoledì 4 ottobre 2023 su Canale 5. Dopo quattro anni di attesa. Abbiamo visto Rosa Diletta Rossi brillare nel ruolo di Maria Corleone. Una figura femminile nell'ambiente mafioso. Ispirata a Rosi Abate interpretata da Giulia Michelini. La trama della serie ha toccato temi come corruzione, droga, indagini e vendetta. Mantenendo viva l'atmosfera delle famiglie mafiose. E ora. La notizia che molti di voi aspettavano? Ci sarà una seconda stagione di Maria Corleone? Il produttore Pietro Valsecchi ha dichiarato che il progetto è in cantiere. Si prevede di iniziare le riprese tra gennaio e febbraio. Con l'obiettivo di portare la seconda stagione sullo schermo già a settembre 2024. Quindi, preparatevi per un'altra emozionante avventura con Maria Corleone. Rosa Diletta Rossi, l'attrice protagonista, ha espresso la sua gioia nel vestire nuovamente i panni di Maria Corleone. Qualora riceva l'approvazione definitiva. La sua interpretazione è stata apprezzata da molti. E siamo ansiosi di vederla di nuovo in azione. Per coloro che non conoscono ancora la storia, Maria Corleone racconta la vita di una giovane stilista palermitana coinvolta in una rete di segreti e vendette. La serie ci porta tra le città di Milano, Palermo e New York. Confrontando il mondo dell'alta moda con quello della criminalità organizzata. Rosa Diletta Rossi è un talento eccezionale. Nata a Roma il 18 ottobre 1988. Ha già lasciato il segno con le sue interpretazioni in altre serie come Suburra su Netflix e Nero a metà. Il suo talento e la sua versatilità la rendono la perfetta Maria Corleone. E ora, cari spettatori, vi chiediamo di rimanere sintonizzati e di supportare la serie e l'attrice Rosa Diletta Rossi. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla seconda stagione di Maria Corleone. Grazie per essere stati con noi in questa avventura. E ci vediamo presto.